Ciao a tutti, sono Antonella Confortola, sono qui nella mia casa di Ziano di Fiemme. Questi dieci anni sono passati molto velocemente, tanto che non sembrano nemmeno dieci anni. Però, pensandoci bene, sono successe tante cose, quindi il tempo passa, ma i ricordi rimangono ancora molto nitidi di quelle Olimpiade. Io ho fatto quattro Olimpiadi, Torino è stata la terza, e quella che per un certo verso forse è la più bella. E lì è arrivata anche la medaglia nella nostra Italia, quindi è stata proprio una cosa davvero unica ed emozionante. Abbiamo preso una medaglia di bronzo nella staffetta femminile di Cidifondo, Una staffetta vuol dire vivere un evento, una gara, tutte insieme, dare il meglio anche per le altre, ed è qualcosa che si prepara non in una settimana o in un mese, ma qualcosa che abbiamo preparato tutta l'estate. Infatti, penso che sia stata proprio la unione, la voglia di vincere qualcosa insieme, che ci ha fatto ottenere questa medaglia e quindi è stata ancora più bella. Tutte e quattro, oltretutto, siamo nel corpo forestale dello Stato, quindi questo ci ha reso ancora più unite ed ha reso questo evento ancora più speciale. Ricordo l'atmosfera di quel giorno, il viaggio che abbiamo fatto in macchina per arrivare sul campo in gara, noi quattro, in cui si poteva toccare l'andrenalina che avevamo nella macchina, poi la gara, che tutto sommato è passata molto veloce, senza rendersene tanto conto, e poi tutto il resto della giornata, in cui tutte le cose sono successe molto velocemente e me le ricordo in maniera un po' vaga. Quello che ricordo bene è l'abbraccio che ho avuto con i miei familiari dopo la staffetta, l'abbraccio con le compagne di squadra e poi la gioia di poter condividere questa giornata con il mio marito adesso, che ha potuto venire con noi a Torino alle premiazioni e vivere anche lui questo avvenimento. È stato qualcosa davvero speciale, la premiazione in piazza Torino, tutte le persone, andare a Casa Italia, poi dopo le Olimpiadi abbiamo avuto la fortuna di andare a Roma dal Presidente della Repubblica, al Quirinale. È stato qualcosa di unico, molto grande, quindi ci sono tutti questi ricordi uno vicino all'altro. Mi ritengo fortunata di aver potuto fare quattro Olimpiadi, di aver partecipato alla nostra Olimpiadi italiana a Torino e di aver vinto una medaglia lì, averla vinta in staffetta, perché questo rende la medaglia ancora più bella, ancora più significativa, e aver potuto condividere questo evento con i miei familiari che erano lì e con tutti gli italiani che ci hanno seguito in pista alla premiazione ed hanno reso il tutto davvero speciale.